Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova edizione del TG Flash di Irpinia News. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Furto all'ufficio postale di Santa Paolina. 15.000 euro il bottino. Ad Ariano Irpino nella Basilica Cattedrale una folla commossa per l'ultimo saluto a Gerardo Scarpellino, l'uomo deceduto in Austria a causa di un infarto che l'ha dirottato fuori strada. Siamo all'attualità. È stata rimossa e sequestrata la pianta di marijuana spuntata nel cantiere chiuso di Piazza Castello. Chiudiamo con lo sport, il calcio avellino test pomeridiano con la primavera per gli uomini di Rastelli in vista del delicato match del Partenio Lombardi contro il Varese di Mister Sottil. Il direttivo della Curva Sud chiama a raccolta i tifosi. Tutti uniti, il cammino è lungo. Niente Sky, tutti al Partenio Lombardi a sostenere il lupo. Vi ricordiamo che potrete seguire ulteriori approfondimenti sul portale www.irpinianews.it. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.